L'epatite C è una malattia che spassa peso inosservata. La sua trasmissione può avvenire attraverso il sangue, piercing, tattoo o materiale medico che non è stato correttamente sterilizzato. Una gran parte della popolazione sopra i 60 anni di origine italiana è colpita. Queste persone possono avere per molti anni la malattia senza accorgersene, anche se la malattia avanza continuamente fino al rischio di portare a cirrose o tumori del fegato. Attualmente le terapie sono migliorate e sono molto facili da seguire, durano massimo due o tre mesi senza effetti collaterali e sono pagate dalla cassa malati. Attualmente possono i medici di casa anche ordinare i farmaci e seguire la terapia con il paziente. Grazie. 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 Grazie.